Come può un saggio di economia citare Douglas Adams? Sin dalla copertina, Scelgo dunque sono, guida galattica per gli irrazionali in economia di Luciano Canova, dichiara la sua dirompente originalità e il suo approccio inedito ad una materia finora considerata decisamente rigida e poco incline ad approcci eclettici. L'autore, docente all'Università di Pavia e alla scuola Enrico Mattei, si è infatti confrontato con una sfida ambiziosa, sdoganare una nuova visione della materia per coinvolgere anche chi di economia è totalmente digiuno. Un volume nato sul campo, dalla concreta esperienza accademica, come ci conferma Canova. Questo libro in realtà nasce sostanzialmente dal mio corso di economia comportamentale, nel senso che io insegno questa materia da un po' di anni, uno dei problemi attavici di un insegnante è quello di catturare l'attenzione dei suoi studenti, anche perché insomma è un bene molto scarso, per cui è una serie sostanzialmente di appunti. Mi accorgevo che le lezioni avevano anche delle storie che potevano essere raccontate a un pubblico un po' più vasto, per cui è un po' la collezione di queste lezioni. Un testo che conduce per mano il lettore attraverso un universo in cui i concetti apparentemente complessi, come causalità, correlazione e oristica, si disvelano in tutta la loro linearità. Una vera e propria guida nel panorama dell'economia che, come modello, ha la guida galattica per autostoppisti di Adams, che l'autore sceglie di omaggiare sin dal sottotitolo. Come i libri di Douglas Adams hanno, di fatto sono un viaggio fantascientifico e però un po' scansionato, questo qui è un viaggio all'interno dell'irrazionalità in ambito economico, cercando un po' di sdoganare il comportamento irrazionale e dandogli una nuova dignità, e poi è anche un po' ironico, quindi sostanzialmente c'è questa dimensione qui. E poi davvero nerd, per me, insomma, guida galattica per autostoppisti è un classico e quindi volevo rendere omaggio a un bel libro. Attraverso esempi tratti dalla vita quotidiana e dalla cultura pop contemporanea, dal bradiposid dell'era glaciale al tolkeniano Hobbit Frodo, Canova crea un linguaggio universale, in cui una pluralità di codici si incontrano per rendere la materia piacevole proprio per tutti. L'idea è che sia un libro che soddisfi il lettore, che desidera, insomma, farsi una cultura un po' generalista, quindi davvero è un libro che può arrivare a tutti, non richiede conoscenze pregresse, e che però possa anche soddisfare chi ha più conoscenze in ambito economico, perché comunque è un libro che ha un suo rigore, cita sempre la letteratura scientifica, per cui può soddisfare pubblici diversi.